Ma lo sa che in questo ristorante fate proprio delle porzioni da finocchi? Come? Ecco, bravo, anche il patrone ha detto come. E lei, complimenti per la torchina di verdure, con lo stesso tono di prima. Me le sono segnate tutte. Signora, lei non può portare i sandali perché hai dei piedi orribili. Se non piscio subito scoppio. Quando sono stata sfriginata a 15 anni... Ah, no, allora la perla. Pare che i cazzi dei neri... Pare che i cazzi dei neri non siano affatto più lunghi di quelli dei bianchi, lo sa? Vuoi sapere a chi l'ha detto? No. Al console senegalese.